È un grande piacere per il Municipio 3, per me che sono Presidente, essere qui in questo luogo e aver partecipato a questa inaugurazione. Sarà un servizio per il territorio notevole, eccezionale e giunge fra l'altro in un momento anche particolare, dove molto spesso le associazioni che si occupano di questo servizio per i cittadini più deboli, più fragili, hanno sofferto molto di carenze, proprio di donazioni e hanno fatto fatica moltissimo anche a trovare le materie prime per soddisfare le esigenze che sono sempre più numerose. Sono certa che questo nuovo hub diventi proprio un polo e proprio pensavo, sembra l'uovo di Colombo, a mettere insieme chi non sa dove buttare e sprecare il cibo ormai in scadenza ma ancora buono e valido e chi ha bisogno invece di poterne usufruire per soddisfare questi bisogni. Per cui è davvero, grazie però, pensiamo quanti soggetti hanno lavorato dal Comune, alla Cariplo, al Politecnico, all'Avis, al Banco Alimentare, alla Banco di Credito Cooperativo, all'Asso Lombarda, al Comune, al Municipio, quindi davvero tutti insieme faremo in modo che questo servizio andrà al meglio. Per cui grazie a tutti quelli che hanno partecipato e il mio impegno sarà sicuramente quello di mettere insieme le persone che potranno usufruire di questo meraviglioso servizio. Grazie.